Io faccio il tema senza scaletta, lo faccio in ascensore, si fa più in fretta. Tu metti il tuo intervento, il tuo senicolore, eccetera. Tu credi che come a casa ci siano i tempi supplementari? Certo. Per le persone normali, per quelli come te, c'è il loro semplice. Io copro sul calcio finale, che mi tiri fuori dai guai. Non è arrivato nessuno, rischio invece di andare all'archia totale. Ragazzi, che idea? Perché non prendiamo il potere? In fine conti, basta volere. La prop non c'è, è un'occasione, facciamo la tua gestione. La prop non c'è, è un'occasione. La prop non c'è, è un'occasione. Dormiamo! Mangia! C'è una migrazione! In una classe che sta nel ballone, ognuno avrà la sua funzione. Per esempio, la pisecchiona può inserire subito il poltrono. No, io voglio fare la prova. Sara sarà la prova, perché no? Il più bravo è matematica? Si dia l'informatica e scaglie video giochi per tutti. Proprio quello che voglio fare. Ti soffiato, voglio entrare nell'aula di informatica e giocare. Giocare altro che matematica. Ma ci ho pensato? Nessuno si prenderà avanti tutti. Perché faremo perché sanno fare tutti. E cioè? Ma perché ci verrà in mente, e chiunque se la caverà greggiamente. Di diventare un'altra scuola! Per noi la sciocchezza! Grazie alla nostra sfondatezza! Ah, mi piace la vostra scuola. All'inizio non capivo una parola, poi le parole ho già parato, e con gli altri ho cominciato a divertirmi. Con i propri fai finta di non capire. Fai finta di non capire. Anche se non sai parlare, il parlo è per tutti il linguaggio universale. Il parlo è per tutti il linguaggio universale. Il parlo è per tutti il linguaggio universale. Lo sbarlo, lo sbarlo, è la meta da seguire! Lo sbarlo, lo sbarlo! Ci piace da morire! Non vengono a tirare le donne in cui portiere. Ligiamo intensamente e studiamo proprio niente. Lo sbarlo, lo sbarlo, è la meta da seguire! Lo sbarlo, lo sbarlo! Ci piace da morire! Tutti i veri, tutti i diti, se avete un gusto, siete tutti finti! Se c'è una cosa che vi fai fassire, è il suo po' che ne so bravi! Oggi si fa! E' chiusi! Eccola! Quello non fa! Quello sì! Porta qua! Lei non fa! Lui non sa! Si fa! No! 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 Se c'è una cosa che ci fai fassire, è il suo modo di fare, si fa sempre lavorare, Si fa tante ore, non si tancano, non si fa la pensare, con quel signo così particolare. Basta, basta, lasciacelo dire! Sì, c'è una cosa che ci fa impazzire, sono i conflitti che dà, le prese che dà, c'è un ruolo da fare, è impossibile creare, che si spresta, non si tratta, non si tratta. Sì, c'è una cosa che ci fa impazzire, è un disturbatore, il suo modo di bloccare, La lezione per ore, non si stanca, di tenere, con quel dono così particolare. Sì, c'è una cosa che ci fa impazzire, sono i versi che fa, le scienze che fa, C'è poco da fare, è impossibile negare, che ci stessa, ci stessa da morire. Sì, c'è una cosa che ci fa impazzire, è impossibile negare, che ci stessa da morire. Sì, c'è una cosa che ci fa impazzire, è impossibile negare, che ci stessa da morire. Guarda i conflitti, come sono andati? Vedo tanti segni rossi, la prof ha segnato gli orrori, ha scritto proprio così, numero di orrori. Ma Arianna, sei proprio fuori. Di doni, regina di cartilagine, rosso, ma almeno un comunista. Venti per lì, i carmi a Burano su un complesso musicale di Burano. Tanti si trovano nella fredda nera, ben aprile, non vengono per il titolo del suo contrapasso. Se Jessica invece è la legge del contrapasso. È uno spazio, io mi trovo molto piantino. Qualcuno di Eme è i cretini. A Jessica la parma d'oro, che parla del guai del confuso. Chi sarebbe? Quella trattatrice, l'abbiamo studiata da poco. Foscolo si chiama Jessica, Ugo Foscolo, non è tanto difficile. Molto mi arrivano. Foscolo è italiano, si chiama Ugo. Quasi quasi un peco. Poi sono etica a qualcosa di neoclassico e romantico. Neoclassico e orrori, non romantico e romantico. Per lei che lo sa lontano, per noi ognuno è quanto. Fare la parata e trovare le figure intolche. Figure retoriche? Che bravi! Siete stupendi nell'autogestione. Non è una stessa la passione. La vostra insegnante lo deve sapere. No, no, però su di persona a vedere. Le dica solo che stiamo ripassando, vero? Sì, è difficile. Dai, ragazzi, vengono a vedere le figure retoriche. Sì, è difficile. Grazie a tutti. Grazie a tutti.